Inaugurato il nuovo piccolo mercato rionale di Villanova di Pordenone. I banchi di alimentari, abbigliamento e altro arriveranno ogni venerdì dalle 15 alle 19 in zona polisportivo di Via Pirandello. Abbiamo cercato di inserirlo in un contesto vivo, essendo una fase sperimentale, un mercato pomeridiano, c'è una scuola vicino, c'è un centro sportivo, il centro sportivo dedicato ad Armando Lupieri, perché vogliamo fare in modo che diventi un luogo di aggregazione per un quartiere che è sempre stato molto vivo, e che ci ha richiesto questa tipologia di mercato. Tipologie di merci, orari e luogo del mercato nascono da un sondaggio ASCOM tra i residenti. È una cosa molto positiva, secondo il mio opinione, probabilmente avrebbe più successo qui che in piazza, che era un po' isolata e per cui la gente tante volte non conosceva, mentre qui, essendo una strada di passaggio, le scuole, tante attività e quindi la gente vede, si ferma magari a bisogno di qualcosa e copera. Il sindaco Alessandro Ciriani ha annunciato altre novità per il quartiere. Ho l'occasione anche propizia per annunciare che proprio nel 2020 partiranno i lavori di asfaltatura di una buona parte di questo quartiere che lo attende da molto tempo, quindi non solamente le iniziative di aggregazione, ma anche le iniziative concrete. Villanova poi avrà tra poco anche la partezza dei lavori della sistemazione, tanto del Palazzen che avrà ampliato, quanto dell'intera riqualificazione della zona della festa in piazza, e più l'analizzazione anche di una casa di riposo moderna, adeguata agli standard per i nostri anziani. Quindi ripeto, accanto all'iniziativa di aggregazione della città, ci sono anche iniziative concrete che stiamo mettendo in piedi, tanto in centro quanto nelle periferie. Quello di Villanova non è l'unico mercato rionale attivato dal Comune. Il mercato dei produttori agricoli nel rione di Torre, nel quartiere del Sacro Cuore, il mercato pomeridiano che è un vero e proprio mercato a Villanova, e ora faremo delle fasi di sondaggio per cercare di vedere anche in altri quartieri se c'è la fattibilità per poterlo fare, mi riferisco a Cappuccini ed eventualmente altri quartieri.